Chiusa la stagione regolare del campionato di Serie D, il verdetto più amaro per l'Isernia che non è riuscita ad evitare la retrocessione diretta nel campionato di eccellenza. La situazione dei Bianco Celesti era precipitata dopo la sconfitta interna con il Francavilla. Serviva un miracolo a Matelica che non è arrivato. Il Sant'Arcangelo ha vinto, come da pronostico, la sua gara interna con il Notaresco, ormai con la testa in vacanza, e nonostante un match super chiuso sull'1-1 contro la vicecapolista, i ragazzi di Mister Silva hanno chiuso al penultimo posto la regular season. Peccato perché per impegno profuso e abnegazione dimostrata dall'inizio del campionato, Fazio e compagni avrebbero meritato di giocarsi almeno una chance nei play-out. Così purtroppo non è stato e a bocce ferme possiamo sicuramente dire che nell'economia della stagione di Bianco Celesti ha pesato senza dubbio la sconfitta contro il già retrocesso Castelfidardo. Quella, la gara incriminata che avrebbe portato l'Isernia, in caso di successo, ai play-out. Peccato perché a prescindere da tante occasioni sciupate la sconfitta intera marchigiana è stata senza dubbio quella che ha rappresentato il risultato negativo dell'intera annata. Un plauso comunque alla squadra e all'allenatore Massimo Silva. Come detto dallo stesso tecnico al termine della gara di Matelica, retrocediamo a testa alta. Siamo assolutamente d'accordo, il tecnico, anche in considerazione del fatto che l'Isernia da calendario non ha avuto gare più morbide sulla carta contro squadre ormai fuori da ogni discorso di classifica. Una retrocessione che sicuramente fa male perché il calcio molisano perde una rappresentante nella quarta serie. Sicuramente l'Isernia ha pagato un ambiente frammentato soprattutto nella seconda parte di stagione. E' presto per qualsiasi tipo di discorso futuro, un periodo di riposo dopo un'annata stressante è necessario prima di valutare la strada da prendere nella prossima stagione. All'Aragona di Vasto si deciderà domenica prossima il futuro dell'Olimpia agnonese. Uno strano scherzo del destino mette a confronto nuovamente le due squadre dopo la sfida andata in scena domenica al Civitelle chiusa sul 3-2 in favore degli altomolisani. Gara vera, considerato che l'Ava stese dalla possibile salvezza diretta in caso di successo a Agnone, è passata a chiudere al quinto ultimo posto a pari punti con l'Avezzano. In virtù degli scontri diretti tra le due abruzzesi, Avezzano al play-out con il Sant'Arcangelo e Aragonesi contro i Granata di Mecomonaco. In casa agnonese il morale è buono, l'ottima prestazione contro i Biancorossi lascia ben sperare per il play-out. Ricordiamo che l'unica strada per mantenere la Serie D è quella di vincere all'Aragona nei 90 minuti oppure dopo i tempi supplementari che si giocheranno in caso di parità. Una gara secca dove può succedere di tutto, sicuramente gli altomolisani dovranno ripartire dalla grande prova di domenica senza timori e paure per cercare con le unghie di mantenere la Serie D. Infine per quanto riguarda il campo basso, ieri pomeriggio si è tenuta una riunione importante della dirigenza a Napoli per la programmazione del prossimo campionato. Nella riunione si sono discussi temi tecnici ed altre tematiche inerenti al progetto campo basso. A breve verranno rese pubbliche tutte le intenzioni della società per il prossimo futuro. Al vaglio i nomi che possono fare al caso del campo basso a livello di staff tecnico e di rosa per quanto riguarda i giocatori. In tal senso Musetti e Alessandro sono praticamente certi della conferma perché hanno firmato un biennale, possibile anche una seconda chance per il centrocampista Di Lauri. Questi nomi al momento, come detto nei prossimi giorni, ci saranno news importanti da parte della società preseduta da Nicola Circelli. Con i piani che non sono cambiati, presentare domande di ripescaggio qualora ci siano le condizioni per carenza di società in Lega Pro e al contempo allestire una squadra forte per puntare alla vittoria del campionato di Serie D. Con i piani che non sono cambiati, presentare domande di ripescaggio qualora ci siano le condizioni per la società in Lega Pro